La parte in ferro della reliquia con il sangue di Papa Wuitila rubata dalla chiesa di San Pietro della Ienca è stata rinvenuta stamattina dalla squadra mobile dell'Aquila nella sede del Certa Collemaggio, fermati tre tossicodipendenti poco più che diciottenni. Il pubblico ministero titolare dell'inchiesta David Mancini ha interrogato le persone fermate perché sospettato di aver rubato la reliquia con il sangue di Papa Giovanni Paolo II insieme con una croce nella notte tra sabato e domenica nella chiesa Le Falde del Gran Sasso, luogo frequentato da Giovanni Paolo II durante il suo pontificato. Dopo il ritrovamento presso il cert del capoluogo della parte in ferro che avvolge la reliquia di Papa Wuitila si sta cercando il pezzo di stoffa intriso di sangue del pontefice anche nelle abitazioni dei fermati. Gli artefici del furto pare non abbiano compreso il valore della reliquia gettando via il tessuto con il sangue del pontefice. Il fatto che i giovani fermati non siano in grado di indicare con precisione il posto dove si siano disfatti della reliquia rende più difficili le ricerche di polizia e carabinieri che hanno battuto sia la zona adiacente alla basilica di Colle Maggio dove vicino al cert sono state ritrovate la parte in ferro della teca e una croce sia le abitazioni del progetto case di tempera dove risiede uno dei tre fermati. Dei tre giovani due hanno precedenti per reati contro il patrimonio e tutti secondo gli investigatori problemi con la droga. Grazie a tutti.